Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Maire sul tanto vediamo lo scalzo ah mamma mia no questa voi pazzesco zoppica un po è stato investito dalla cameraman queste sono riprese non della regia internazionale ma della adesso invece è il primo degli umani question is how do democraciasi respondo scandalo and what will it mean for a for the wider region I think one of your children's just walked in I mean shift is shifting shifting sands in the region to the relations with the north may change I would be surprised if they do the um pardon me pardon me my apologies what is this going to be for the region my apologies North Korea North South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited ma anche i'm a peller con mexico me is going to pelear me alemania però me da la impresione di che alemania ha llegato a su limite me permitti Oleri, Oleri! Oler, Oleri, Oleri! Cosa donna Il Cardenale? Carrile Panne il clima per lo mejor di Fox Sports. Il clima per lo mejor di l'accogida che le dieron in mexico le serbilla signores per il huracan Liz Taylor is being played by Stockard Channing Marlon Brando is being played by Cedric the Entertainer We're coming right back Il clima 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 Special Olympics athletes from Aveline to San Angelo who are here in town You want me to read yours? Letter F Fiona thinks she's the person with the letter F in your life Of course I can't believe I forgot about my dear Fiona You are the F in my life Fiona I'm the F in my life Fiona I can't believe I can't Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti.